Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà tutto sommato pressione atmosferica abbastanza alta sull'Italia, solo all'estremo sud sarà presente ancora un po' di variabilità, in particolare in Sicilia ma senza grandi conseguenze. Se controlliamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese, vediamo che anche al sud saranno presenti infatti ampie scherite, passa qualche velatura in giornata ma senza particolari conseguenze e anche come precipitazioni vi segnalo sì la possibilità di qualche piovasco in Sicilia come vi dicevo, soprattutto settore orientale della regione, versante ionico, però saranno precipitazioni non particolarmente insistenti. Quindi in definitiva ci attende un'edì con ampie zone di sereno da nord a sud, un minimo di variabilità nelle estreme regioni meridionali vi dicevo sulla Sicilia ionica la possibilità anche di qualche piovasco, per il resto nulla di particolare, temperature che localmente tornano anche a superare i 20 gradi, quindi in giornata si starà abbastanza bene, però al primo mattino aria sempre molto frizzantina e anche qualche foschia in pianura padane nelle valli del centro. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre zone scaricate l'app di Trebi Meteo.